ladies and gentlemen all the young people this is shot up in casa belli mi iscriviti al canale se non mi piace ve lo dico come lo dico nel canale in un momento della democrazia e come l'onestà intellettuale del disegnatore rocchi vi lascio fare come vi pare allora ragazzi prima di tutto prima di tutto un bacio ad adamo un bacio al marchese un bacio all'attore soprattutto un bacio all'aziale e un bacio all'irriducibile ah di ai aiutano il bar i'm so sorry mi senti ciao all'uomo l'uomo che ha sbagliato ha pagato mentre pagava è cambiato è migliorato è uscito ha aiutato chi come prima chi stava come lui prima è stato accusato di cose che ultimamente vanno molto di moda è stato scagionato ci mancherai adamo ci mancherà la tua la lazialità il tuo genio io ho avuto la fortuna di incontrarlo due volte non posso riputarmi un amico non posso nemmeno riputarmi un conoscente ciao dammi un bacio in alto ci mancherai parliamo di lazio ragazzi partita delicatissima partita che mi spaventa tanto perché il 20 è una partitaccia nonostante abbia fatto solamente due punti ma vorrei ricordarvi che ha contato il manchester united ha incontrato il manchester united 1 a 1 all old trafford ha pareggiato in casa con il besiktas sesto come ho detto nel campionato olandese è una partitaccia è una partitaccia perché per la prima volta in europa affronteremo un clima molto caldo sono preoccupato perché si per gli episodi per quello che vi pare però le sconfitte che ha fatto la lazio sono avvenuto in trasferta in campi relativamente caldi e quello di domani sarà bollente perché in olanda sono bollenti onore a tutti i laziali che stanno andando stanno partendo grazie che ci difendete e portate in italia e in europa nel mondo i nostri colori io ragazzi sono spudoratamente onesto sarei molto molto contento del pareggio però sarà durissima sarà durissima vediamo quanto i ragazzi siano veramente vogliosi quanto siano caparbi quanta fame e quanta voglia hanno e soprattutto quanti attributi e quanto coraggio hanno per affrontare una partita a un pubblico abbastanza caldo come quello olandese io spero solo che la lazio faccia una buona prestazione noi ci saremo presenti però è dura se i ragazzi domani portano via punti dall'olanda c'è da fargli ancora più applausi di quello che è quello che ho fatto quello che ho detto di investire comunque ragazzi si è aperta chiusa parenti perché non è che va a passare più attuente come Real Madrid vedendo la classifica dell'euro divise si chiama euro divise no? vabbè la classifica del campionato olandese sono sesti e se non vado errato comunque stanno dietro a tutte le grandi le grandi l'olanda quindi sì però vediamo vediamo ragazzi perché appunto appunto è importante è importante se vogliamo continuare la nostra se vogliamo continuare la nostra avventura europea se vogliamo rimanere lassù in alto se vogliamo provare a non dover fare gli spareggi o i playoff 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 è tutto americano tutto è inglese certo clean sheet foot on step offside clean vabbè comunque mi avete capito un bacio in alto anche noi qui da New York proveremo a rendere omaggio al nostro Adamo so che sta ritrovando un po' di amici ho visto un video oggi nella vecchia sede a piramide vi posso immaginare chiacchierare insieme parlare di fare striscioni e niente dai vabbè raga noi voliamo in alto striscino forza l'altro di fare striscino di fare striscino